Un grande evento ed una enorme partecipazione. Il Santuario di Vallepietra questa mattina, anche grazie alla diretta della nostra emittente, è stato il cuore pulsante della fede nel centro Italia. Una messa, quella delle Dieci, in cui non solo è stata ribadita la devozione alla Santissima Trinità, ma è stato anche tributato il grazie al Rettore, Monsignor Alberto Ponzi, per i suoi 40 anni di sacerdozio. Devo dire solo grazie a Dio Trinità per questo dono grande che mi ha dato, per le tante soddisfazioni che riempie giorno per giorno la mia vita e la grazia che continuo a chiedere a Dio Trinità che mi aiuti con la sua luce, con la sua parola, per camminare sempre, secondo la sua volontà, per la sua gloria, per il bene delle persone che mi sono state affittate. E dal 2000 sto qui a Santuario, a Vallepietra, dal 2003 sto a Trevi, da un anno anche a Filettino e la Santissima Trinità veramente mi dona tanta luce, tanta forza, tanta salute. In occasione del quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Monsignor Alberto Ponzi, ci tengo a fargli gli auguri più fraterni, più affettuosi e più belli per questo suo traguardo. Quarant'anni di sacerdozio non sono pochi e poi per come li ha passati Don Alberto è il massimo, quindi io lo ringrazio non tanto e solo perché è rettore qui del Santuario della Santissima Trinità, ma anche per il suo servizio di vicario generale nella diosia Nagnaladri.